salve ragazzi sono tornato tra di voi ho un cellulare nuovo perché il mio vecchio cellulare si era rotto e ho tentato di aggiustarlo con le mie mani ovviamente non ci sono riuscito ho lasciato il lavoro con questa bella immagine della nutella so per salutare i miei amici al locale e intraprenderò questo bel viaggio fino a sidney 900 chilometri circa un grande in bocca al uvo sarà difficile perché calmi cosa è dura è dura e saluto anche ludovica e adesso vado a cambiare di nuovo vita e vi racconterò tutto a breve ciao adesso andrò a farmi un poco di lavoro nelle famose farm che consentono di avere dopo 88 giorni di lavoro in queste farm consentono di avere il permesso al secondo anno di visto per andare a fare le farm bisogna e sono sicuro che la redazione metterà una mappa mentre io lo sto spiegando bisogna dividere tutte le zone dell'australia rispetto a quello che si vuole fare preferirei fare delle farm di raccolta frutta o impacchettamento frutta perché essendo alto abbassarmi a prendere i pomodorini sarebbe un poco distruttivo per me l'accusa arriva dalla lontana australia che ha dato battaglia ai pomodori troppo bassi nel frattempo ho comprato una macchina ed è questa dove sono una bellissima holden commodore del 95 ed è lì pronta per portarmi di nuovo a Sydney e poi al nord a prendere il mio amico che è venuto dall'Italia si chiama Rocco lo vedrete nei prossimi video lo andrò a prendere a Sydney e saliremo insieme a fare a fare questo lavoro in farm vi aggiornerò presto è molto bello ritornare tra di voi qui si guida a destra della mia bella macchina vi aggiornerò presto